Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per mercoledì 31 gennaio. Anticiclone nordafricano pronto a rinforzarsi dopo i trascorsi due o tre giorni in cui si era un po' indebolito. Non ci saranno piogge, non ci saranno nevicate, le solite nebbie dense nella pianura padano-veneta, sulle marche sull'ovest dell'Umbria. Massime inferiori a 10 gradi sul nord Italia per effetto della copertura da nebbie. 10-13 gradi al centro-sud, 13-15 solo sulle isole maggiori.